buongiorno buongiorno a tutti ben trovati nel canale e benvenuti in questo nuovo video video ovviamente dedicato alla situazione di madrid situazioni madrid che oggi giocherà le due semifinali semifinali tra virgolette atipiche per un master mille fritz rublev alle 16 e aliasim lecca alle 20 tutto questo perché mentre nel femminile alla finale ziontech sabalenka quindi è una della finale più più probabile tutto questo dicevo nel maschile perché anche me deve stato vittima di infortunio parleremo un po di questa situazione cercheremo di capire se forse 3000 in un mese e mezzo sono troppi non prima di avervi invitato ad iscrivervi al canale lasciare like al video attivare la campanella per le notifiche andare sul sito del fanta tennis manca poco al sorteggio del tabellone di roma e quindi alla possibilità di come dire di di fare i nuovi pronostici in ottica del torneo di roma in vista del torneo di roma e quindi di poter iniziare a giocare anche chi entra dopo può registrarsi al modulo di registrazione che vi garantirà registrando la mail di avere sempre lo stesso username che possibilmente deve essere uguale a quello che userete nel gruppo telegram se vi iscrivete al gruppo telegram dicevo vi garantirà anche l'estrazione anche l'escrizione in ritardo di partecipare almeno alla possibilità di andare alle finals per grazie agli slam i vincitori di ogni slam vanno alle finals quelle dove i giocatori vengono estratti a sorte per poter poi ambire ai premi comunque parliamo di tennis invece di fanta tennis e parliamo di madrid madrid che ha visto perdere tutti i diciamo i quattro big zero ha perso la sua partita al calazzo ha perso dopo due anni contro rublev sinner e medvedev quindi un intero blocco di teste di serie nella parte alta del tabellone si è ritirato senza poter arrivare in semifinale e ciò ha scatenato anche nei social la protesta dicendo che il calendario è troppo è troppo fitto tre master mille in due mesi sono troppi poi c'è il cinquecento di barcellona che è comunque un torneo importante tutto questo sfavorisce sfavorisce diciamo i giocatori ragazzi io vi dico che è sempre stato così cioè quando non c'era madrid prima di roma c'era hamburgo che poi è diventato un cinquecento ed è stato sostituito da madrid ma ci sono sempre stati questi tre mille prima di roma probabilmente è diventato più fisico il tennis è diventato uno sport dove si gioca non di tocco ma chi tira più forte e quindi le componenti del corpo umano vengono portati al limite e bisogna gestirlo meglio allora io non sarei per togliere i tre mille ma sarei per mettere obbligatori sette mille su dieci nel senso ora come funziona ci sono dieci master mille uno è monte carlo che non è obbligatorio quindi lo puoi sostituire gli altri nove chi non lo chi non lo fa prende zero quindi di fatto i giocatori si trovano costretti a fare una programmazione e sarà la stessa che se questo problema si ripresenterà addirittura peggio con in estate quando ci sarà l'olimpiade su terra poi ci sarà toronto montreal e toronto e poi ci sarà sincinnati e poi gli uesomen quindi succederà che del giro di poco più di un mese verranno giocati quattro e tre tornei quattro tornei importanti è chiaro che se i tornei sono obbligatori è difficile per un giocatore che vuole scalare la classifica che ha ambizioni di diventare numero uno di di essere al top possa possa saltarne qualcuno ora sinner è chiaro che mentre alcalaz sinner e alcalaz hanno due prospettive diverse persino per alcalaz il torneo i due tornei più importanti sono barcellona e madrid e il torneo sacrificabile e roma persino è esattamente l'opposto si può sacrificare barcellona si può significare madrid ma poi sponsor e quant'altro portano a dover andare a roma intanto ciò dei lavori che se sentite un po di rumore sono dei lavori in corso dicevo è chiaro che sinner non può saltare roma e quindi la frase similina a madrid mi bastano due tre partite è stata era la preparazione al fatto che lui non puntasse a vincere madrid ma punterà sicuramente a a fare bene a roma e punterà sicuramente a fare bene al roland garos e il roland garos è l'obiettivo primario di tutti perché per quanto puoi voler bene al mille del tuo paese e non c'è un mille più importante di uno slam quindi è evidente che la preparazione di tutti è rivolta verso parigi in base ai alla nazione tra virgolette alla fetta di mercato anche che hai a livello di sponsor diventa più importante giocare madrid diventa più importante giocare roma per alcalaz è fondamentale roma per signere fondamentale è per calaz è fondamentale madrid per per signere è fondamentale roma quindi questa è una cosa che dipende un po da tenista a tenista poi ci sono i tenisti che vanno per la superficie madrid è un torneo che non prepara troppo roma perché è un torneo in altura è un torneo che somiglia molto più al cemento che alla terra battuta e quindi magari è preferibile puntare fare la fare madrid pensando che roma e parigi siano l'obiettivo principale mentre per mentre per chi ama le superfici veloci diventa madrid il torneo da puntare perché è lì dove si può fare punti a roma la superficie è decisamente più lenta e quindi si si valorizza più madrid rispetto a roma quella dipende anche in base alla caratteristica dei vari giocatori ripeto il problema non si pone perché in realtà il calendario è sempre stato così e i terraioli puri andavano a roma amburgo infatti ha provato a prendere quando c'era amburgo 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 ha provato più volte a prendere la posizione di roma essere il torneo prima dell'orangarossa non c'è mai riuscito madrid aveva esordito con una terra blu praticamente impresentabile e quindi madrid è sempre stato il mille tra virgolette più noioso da giocare perché perché era nella posizione prima di roma ma ancora lontano da roland garoz quindi se arrivi in forma a madrid hai ancora tre settimane prima di prima di prima di giocare prima di giocare roma quello che dico io è secondo me utile riportare i mille a 56 56 giocatori con la possibilità di giocarli in una settimana e magari dare far giocare madrid la settimana prima di far finire madrid nella prima settimana e dare una settimana di stacco mettendoci 250 che ovviamente i giocatori big non farebbero e dare una settimana di stacco fra madrid e roma qua chi arriva in semifinale a madrid gioca il sabato è vero che è una settimana di stacco perché comunque il primo turno di roma se sei nei 32 lo giochi tra il venerdì e il sabato quindi comunque la settimana di stacco c'è però è un torneo impegnativo è un torneo dove giochi comunque sei partite invece di cinque è un torneo che dura dieci giorni è un torneo molto impegnativo potrebbe essere anche gestito meglio il calendario nel senso che si potrebbe far giocare gli ottavi e quarti alternati tra maschili e femminili giocandoli tutti nella stessa giornata invece di fare due 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 e dare una settimana di stare dare un giorno di stacco a tutti anziché far finire il secondo turno il terzo turno scusate a alla parte in questo caso alla parte di sinne di tabellone e poi farlo giocare il giorno dopo ci sono delle cose che possono essere migliorate nel senso il terzo turno femminile finisce un giorno prima fai giocare il terzo turno maschile il secondo giorno senza gli ottavi femminili e poi fai ottavi femminili con un giorno di stacco rispetto al terzo turno ma al terzo turno femminile e gli ottavi gli ottavi di finale maschili che invece giocano attaccati al terzo turno con un altro giorno di stacco sulla gestione del calendario si può fare qualcosa nel calendario del singolo torneo dico io è difficile fare qualcosa a livello di calendario se non riportare i mille come rome come madrid e come india wells e come miami perché anche chi arriva in in fondo india wells e miami è vero che non c'è lo slam ma giocare india wells e miami poi ti porta a giocare praticamente un mese intero in un mese di giocare una decina di partite che comunque sono partite impegnative e sono partite che valgono tanti punti quindi si potrebbe riportare i mille a 56 giocatori facendo un tabellone più piccolo dove si può dare giocando il torneo in dieci giorni partendo magari il sabato delle qualificazioni con qualche partita di primo turno in modo da poter dare qualche stacco essendo due tornei combine magari ci si può gestire in dieci giorni facendo giocare una partita in meno ma oltre lì secondo me non si può andare ripeto chi si lamenta di questa situazione insomma io ho visto nadal vincere monte carlo madrid roma e poi l'olanga rossa e all'epoca andava tutto bene e adesso invece il problema perché c'è l'italiano che che si è fermato e sono sono i tornei i tornei sono questi il modo per limare il problema è o togliere almeno 2 mille obbligatori e fare che la classifica si conti con 7 mille su 10 in maniera tale da poter dare un po di stacco tra o madrid o roma o tra i new wells e miami o tra toronto cincinnati che toronto montreal e cincinnati oppure riducendo il tabellone e mettendo e dando più giorni di stacco tra un turno e un altro dando la possibilità di recuperare certamente se un giocatore di fai giocare il terzo turno che è comunque un turno impegnativo perché il terzo turno di di un mille in questo modo in teoria devi trovare uno dei primi 16 e poi è uno dei primi 32 e poi devi giocare l'ottavo di finale il giorno dopo beh certamente la parte di tabellone e non è un caso che i ritiri siano tutti nella stella parte di tabellone che ha giocato queste due partite attaccate poi medvedev in realtà ha dichiarato che non aveva niente prima della partita e tutto è successo durante la partita e quello inevitabile ma sinner che già aveva detto a cui bastavano 34 partite di fai giocare due partite di fila è molto probabile che avendo un problema alla quarta alla terza scusate accusi ancora di più il problema e magari si ritiri poi io quello di medvede no ma io il ritiro di sinner lo vedo un ritiro non dico tattico ma un ritiro quasi dichiarato le dichiarazioni di sinner ad inizio torneo dovevano un pochino far pensare che il ragazzo avesse il milino puntato su roma e su parigi e a madrid andasse a fare una sorta di prova poi è chiaro che per come si era messo il torneo è un peccato che si sia ritirato perché visto il tabellone probabilmente lo avrebbe vinto però ecco è anche ingiusto per il pubblico che si presenti un atleta che è il numero uno del ceiling e che dice a me mi basta vincere due tre partite in questo torneo non si può cambiare il calendario perché ci sono contratti televisivi perché ci sono perché ci sono sponsor che hanno investito sul torneo e quindi non puoi certamente toglierlo spostarli data però si può certamente cercare di allargare il torneo visto che ripeto madrid e roma hanno praticamente due settimane per giocare diventa non slam se invece di fare il tabellone a 96 voi mi direte a te non piace il tabellone a 96 verissimo a me non piace un primo turno dove io pago un biglietto e non vedo nessuna delle prime delle prime 32 teste di serie vado a vedere delle qualificazioni se vado a vedere il primo turno di un mille a 96 però si può stringere si può stringere il tabellone farlo a 56 e gestirlo su dieci giorni il che renderebbe il torneo molto più giocabile e con il giusto stacco tra una partita e un'altra per tutelare chi fa spettacolo perché chi fa spettacolo con tutto il rispetto per le semifinali che sono uscite a madrid quattro buoni giocatori ma certamente l'audienza te la fanno i campioni te la fanno il sin e te lo fa l'alcarazzo lo fa il gioco vince te lo fa il medvede te lo fa lo zerev e se non arrivano in fondo questi giocatori e escludo rublev che è comunque un top o un top ten ma se non arrivano questi giocatori in fondo il torneo perde da pil cioè oggi stiamo parlando non delle semifinali di madrid ma stiamo parlando di come poter correggere una situazione che a madrid è andata male io vi ringrazio vi auguro una buona giornata e ci vediamo un prossimo video ciao